bella ragazzi benvenuti ad un'altra gara madonna tutti a parlare cos'è sta roba una volta vai te al chiro ma gli educati tutti a parlare addosso a me comunque benvenuti alla nuova parte di GX adesso c'è una qualificazione ovviamente a un rally perchè a noi piacciono tanto i rally qualificazione di merda quindi dobbiamo per forza vincere loro c'è un filmatino guarda chi c'è i polmoni d'acciaio lo chiamavo Dexer scoperto la piccola scommessa del tuo capo con crew Razor Niso non vincerà non importa quanti piloti ha pagato per correre contro di noi oh si Niso mi ha detto di riferirvi che ama la competizione e non vede l'ora che si corre alla prossima gara ovviamente lui è molto più più onesto di me Allora il copre bonus per tenere il conometro a basso me ne faremo un c***o bene si va lo trovo allora ragazzi questo oro qua è molto difficile eh a mio parere è molto difficile perchè bisogna fare un minuto bisogna fare due giri incrassiti due giri eh sia chiaro due giri in meno di un minuto ovviamente bisogna vincere per forza l'oro ecco no perchè ho una qualificazione quindi guardate bene un po' quello che faccio io le tecniche vabbè faccio un rally devi solo girare qua e là e niente guardate cosa faccio io perchè ci sono un po' di rally glaciali camperati da qualche parte sono camperati come dei tesori d'oriente e prendiamo tutti quelli da 5 adesso ovviamente io ho fatto solo 14 secondi sono già a metà giro però come capite un minuto è davvero poco perchè sbagliate un rally lì sbagliate un rally là vedete ho già raggiunto i 20 secondi e non è ancora finito il giro e adesso ce ne sono pochi pochi ovviamente io li manco e niente bisogna stare attenti abbiamo fatto 25 secondi è buono perchè è meno della metà ovviamente non so adesso se sia veramente un buon tempo o no adesso vediamo il secondo giro come fa comunque dura davvero poco un minuto ovviamente farmi almeno due minuto e niente durerà davvero qualificazione di merda a mio parere è una vera merda questa qualificazione perchè non è possibile io sbaglio anche che ci sia un rally come fuori come qualificazione di buono come se già non fosse una pippa nei rally 32 secondi siamo già qua buono direi però adesso abbiamo finito tutti quelli da 5 qua ovviamente manco quelli da 2 ovviamente quelli sono un pro cazzo di merda un pro ok giriamo a destra mi sa insomma andiamo di qua così facciamo la scorciato di house ok il che era di brutto ragazzi perchè adesso non ci sono rally dimmi che la prendo sii ho preso fai le break qua 15 secondi abbiamo 15 secondi maronna prende 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 fai le break qua cazzo di merda mi ha fatto mi ha fatto mi ha fatto 6 secondi mi ha fatto mi ha vinto ok andiamo un po' questa bellissima guerra a me non mi sa filmatino adesso no un cat un cat di filmato come eser e niente andiamo facciamo un po' di tour settentrionale dai vediamo come è mi ha fatto un po' di tour settentrionale un po' di città di pittina di credio aria apriamo le danze se apriamo le danze non solo quelle anche le gambe delle donne che fa aspettate andiamo non si parte all'attenzione contro misura per fare il tuo gamer noi non vogliamo il turbo dice nessun dietro di me ovviamente non posso lanciarti minimali insomma non muore nessun non muore nessun ovviamente io sbaglio to morito muore 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 che si sta qua lì ho vento truccita dai c'è proprio dietro qua che c'ho la torretta ovviamente male che non mi ha visto qua torretta e morite a tutti credo siamo d'arc dio bono de dio mamma puttana ci hanno questi pezzi di merda come fa esser già di ur lui è il pro è il programmer lui dov'è? guardalo guardalo light camper guardalo dammi un cazzo di contremisorato oddio armaggiala tu prego facci il culo a tutti vai uccidere tu ti muoviti dammi un anno muoviti tu toh mangiato dove cazzo sei warry di merda mangiatelo no non posso prenderlo troppo un po' non possiamo scelta anche grazie questa è a34 ok vai usiamo il tourbouse il tourbouse ok raggiungiamo R che è ancora lontano no due bonus dai un colpo di vita che sono ancora facile ok ragazzi se non recuperiamo R di merda mi sa che moriamo no dio buono sono morto dopo tantissimo tempo che ero sopravvissuto avevo fatto la road to survival per l'interacad no 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 devo stare a strada di 5 litri di merda ho il cuore mangiare bene e volare fuori dall'altra credo a me fanno una curiosità così si dio buono dio buono si supernova a tutti yes questi mi interna no to mangiati oh sono d'orca st ma ci diamo siamo giamno la torre è che è morto se tu la prestatissima candava 40 mila all'ora ovviamente tu la prestata come la madonna ma quanti via sopassare non basta domosti 4 se non può detentare poca ma sito la merda come un dato molto va benissimo questo fa benissimo ma asfac asfac metto lì posto di un'arco giallo stiamo scherzando ecco il muo di scivolo aereo disney che non ho preso attacca guarderò che lo vieno a fare un'altra e ovviamente io non aspetta perché sono lì giobo non mi sono fottuto anche sono un coglioni su una testa di cazzo sito io sono una testa di cazzo di come dichiarate dante nota 7 a testa da cazzo proprio sul fine gara dovevo perdere non è possibile sul fine gara per cento modo santa marona dai su muori muori sciverò dal po' 아닌 clarity dai su mi manca poco no 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 time No, no, muori Non prendo nessuno, ovviamente Lui non muore 3000 granate Muori Oh, mangio Sì, che no È morita adesso Eh sì, ancora La doppia, si fa la Nemesis Ok, adesso fa male Ok, adesso me lo metto nel culo Brava Brava, va bene, va bene Va bene Brava Oh, la madonna Che curva aveva fatto È mio il traguardo Arrivò prima Pazzo di merda Bello bellino E' la Torentina Mia Mi toglie Mi toglie Pazzo di merda Il mattino Tattico di merda Pazzo di merda Pazzo di merda